Guardi, quando noi avevamo affrontato anche la discussione sul Jobs Act, proprio per quanto riguarda l'articolo 18, riforma che noi non abbiamo votato, tengo a precisare, avevamo sempre detto che si cercava di spostare il vero problema che hanno le imprese, che è oggettivamente il costo del lavoro. Abbiamo un costo del lavoro altissimo dovuto a contributi, pressione fiscale, assicurazione, INAIL che è spropositato rispetto a competitor europei, non internazionali. Io continuo a dire, un'impresa che produce in Italia ha il 68,4% di pressione fiscale complessiva. Se io vado in Slovenia, non in Cino e in India, in Slovenia ho il 34, in Austria il 50, noi dobbiamo riuscire a coniugare senza posizione ideologizzate l'esigenza dell'impresa con il diritto dei lavoratori. Perché senza impresa non esiste lavoro. Se noi pensiamo di voler caricare l'impresa di tasse, burocrazia ed altro, guardate, prima di rimetterci, saranno i lavoratori, perché il lavoro non ci sarà. Noi in questo momento in realtà stiamo creando nel nostro paese del dumping salariale enorme, visto il tassi di disoccupazione, persone disposte per sopravvivere a qualsiasi condizione di lavoro e imprenditori che omigliano la stragrande maggioranza degli imprenditori onesti che lavorano, che sono quasi la totalità, ma quelli invece che vogliono speculare anche sui lavoratori che fanno saltare il mondo del lavoro. Scusate, noi dobbiamo tornare in una posizione che sia razionale e concreta, eliminando le ideologie da una parte e dall'altra che portano a un estremo, che non danno risposte alle fasce proprio più debole della popolazione. Scusate.